buongiorno sono barbara ferrari perché dovreste scegliere me perché posso offrirvi una grandissima passione per il mio lavoro professionalità cura per il dettaglio la certezza che ogni lavoro è unico a seconda delle esigenze del contesto e sono solita lavorare sia in team che lavorare in solitaria e sono solita spostarmi molto per il mio lavoro quindi mi piace molto l'idea che sia un lavoro dislocato tra più sedi non vedo l'ora di cominciare